E questo è proprio uno di quei video in cui mi tocca mettere al suo posto qualcuno che ha voluto fare il passo più lungo della gamba Maria Sofia pubblica un video per lamentarsi del fatto che le sue foto vendute su OnlyFans sono state diffuse altrove Affermando che il suo caso è revenge porn ed è uguale a chi manda le foto al partner che poi manda ad altri senza il consenso Nel momento in cui si trovano davanti qualcuno come me che smonta le stronzate in cui credono e lo fa bene e argomentano seriamente Tu so chi devi Divulgare contenuti pubblicati su OnlyFans è pirateria o revenge porn? Ho analizzato nello specifico una vicenda avvenuta a una ragazza presente sui social Ma non l'ho fatto solo io, l'ha fatto anche la Cassazione Il quesito giuridico è il seguente Le foto e i video pubblicati su OnlyFans possono essere considerati destinati a rimanere privati come richiesto dalla norma in questione? La fattispecie di quell'articolo 612 ter infatti richiede che la diffusione abbia ad oggetto contenuti destinati a rimanere privati E dunque possono essere considerati tali quelli prodotti in maniera professionale per la vendita? Secondo i giudici di Cassazione in realtà sì E questo perché hanno considerato i contenuti come pubblicati su dei siti in ogni caso chiusi Perché chi può visualizzarlo è solo colui che è iscritto alla pagina del o della creator Ma su internet quale gruppo può considerarsi realmente chiuso? C'è infatti una differenza tra ad esempio la lista degli amici più stretti su Instagram Che noi selezioniamo e aggiungiamo ad uno ad uno E gli iscritti a una piattaforma come YouTube o anche OnlyFans Che possono cambiare e passare da 3 a 3 milioni nell'arco di pochi minuti Secondo me la questione non è semplice come viene fatta dai giudici di Cassazione Bisogna infatti andare a distinguere a seconda del tipo di gruppo Per verificare se ci sia o meno una legittima aspettativa di privacy Su questo tema ho scritto un articolo molto approfondito per NT Plus Diritto Il quotidiano di informazione giuridica del Sole 24 Ore Andate a leggerlo e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Come con Twiner in questi giorni grazie Cassazione per aver confermato quantomeno i dubbi sul discorso del porn Posso dire che ho sborrato? Posso dirlo? Eh ma tanto sai qual è il fatto Palle? Che anche in questo caso quanti si ricordano? Siamo noi coglioni che ci attacchiamo ai commenti Al di là di quello che dicevate al Cerbero Oppure con Giulio da White Half Ma in te due live dove stavano detto No ma non c'entra un cazzo al massimo è copyright Non c'entra un cazzo al massimo è copyright E noi lì a voglia Legge il testo della legge e capì che poteva essere interpretato anche in un senso più lato Così qua Oh ci ha dato ragione a Cassazione Che comunque Non crea Non fa giurisprudenza Però è un precedente Grazie Luciano Sì cioè nel senso Fa giurisprudenza Ecco speso come precedente Non cambia la legge Non siamo in America Non cambia la legge No 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 Non è diciamo tombalmente vincolante Ma infatti questa cosa in realtà Grazie mille per i cinque giftati Ovviamente la sentenza della Cassazione È di un caso specifico Non vuol dire che adesso tutte le cose relative a questo Vada in quella direzione Di sicuro Per carità ma infatti la nostra contestazione all'epoca sulla questione revenge porn È solo pirateria Fu Sicuramente va distinto no? Caso per caso come sempre Ma la certezza che si tratti solo di pirateria assolutamente no Siamo convinti del contrario Era quello il problema Perché c'era gente che dice Ma no ma come fai anche solo a pensarlo Ma è talmente ovvio Tanto ovvio non era Poi dopodiché è il motivo per cui Se uno va pure su che cazzo ne so Il sito Brocardi di turno Ti mette la legge E poi sotto ti mette degli esempi Delle sentenze Per farti capire come è stata interpretata in passato Sì ma infatti solitamente Io poi l'ho scritto pure nelle storie Sono stato molto preciso Anche perché non volevo citare che cavlo impropriamente Sicuramente lo storico è importante no? In relazione alla Cassazione Alla legge in generale Però la Cassazione è molto autorevole Però intanto caso per caso E l'ho scritto pure nelle storie C'è differenza tra Contenuti per adulti Che trovi accedendo al sito Che magari è solo Se hai 18 anni sì Contenuti per adulti Di quel creator Per abbonati Contenuti per adulti Del creator Per una breve nicchia Che ne so Un piccolo gruppo Che ne so Su Youtube potrebbe essere La tier più alta O le varie tier Che cazzo sono Video per un Patreon Sì Contenuti solo per Palle Uomo Palle Uomo mi chiede Davide Ti fai un video in cui Che ne so Metti il pisello Nella tazza Puska Poland Dicendo Palle Uomo ti amo Cosa che non è assolutamente Mai successa No assolutamente Mai successa Questa è un'altra cosa In più Quindi ci sono Delle distinzioni E ovviamente La nostra contestazione Al buon Twin Erone All'epoca In relazione alla vicenda Maria Sofia Fu Non puoi avere la certezza Che sia solo pirateria No? E la Cassazione Ha confermato Che almeno in un caso Effettivamente è stato Configurato E come 612 ter 612 ter Poi Tutti andranno in quella direzione Assolutamente no E ho aggiunto anche che Paradossalmente Per ciò che riguarda Il web Dove È difficile Normarlo Con una certa Diciamo Velocità Cioè i ritmi del web Delle piattaforme Sono talmente elevati Che la giurisprudenza E la burocrazia Non stanno al passo E quindi È ancora meno vincolante Rispetto da anni fa La Cassazione Una sentenza di Cassazione Bene bene Basta Mi sa no? Ah sì Direi che ci possiamo salutare Non credo che a situazione Gli importi più di tanto No ma è ovvio Ragazzi Dovete capire che A questa gente Ovviamente non importa nulla Ma non è riferito A lui È riferito alla gente Che Pino all'altro ieri Mi ha continuato ad insultare E continuerà a farlo oggi Perché Hai difesa amica tua Maria Sofia Hai difesa A bigocche Le solite stronzate No? Quando semplicemente Si usciva un minimo Dal seminato Di odio diretto Verso Maria Sofia E verso le Only fans E chi che sia No? Però va bene così Spoiler La persona ti posta sul cazzo Ma può comunque Aver ragione È incredibile Capita Capita Raramente Ma no Vabbè E Beh 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 Io penso che sia sbagliato Equiparare le cose Ok Quindi Rapporto di coppia Uno dei Questa poi è una delle tante possibilità di revenge porn Non l'unica Uno dei due componenti decide di diffondere materiale privato Che doveva rimanere interno alla coppia Per vendicarsi No? Per questo revenge Ok Poi ci sono altre sfaccettature Quello che è successo a Maria Sofia È una cosa diversa Quindi il paragone per me è sbagliato Ed è anche corretto criticarla Ma anche magari di rispetto a queste persone qui Perché ovviamente Una persona che sceglie di fare un lavoro Come quello della Holy Fancer in questo caso Il porno attore eccetera Comunque Diciamo magari già riflettuto su questa possibilità Ciò detto La modalità Con la quale sono state diffuse le foto di Maria Sofia All'interno dei gruppi È esattamente vendetta È esattamente revenge Cioè Volete provocare un danno a una persona Ma neanche solo in termini economici Quello che se ne fotte È un problema suo Al massimo di sfruttamento dell'immagine Diritto d'immagine Cose che non rientrano in questo campo È proprio Prendere delle cose Di un certo tipo E sbatterle sui gruppi Telegram Per insultarla Denigrarla Trattarla come una zoccola Ricordiamo Non foto del feed di Holy Fans Ma foto mandate in DM Fondamentale secondo me Il caso di Maria Sofia Ovviamente non è revenge porn Perché l'unica differenza nel suo caso Tra le persone a cui ha venduto le foto E quelle che le hanno viste su altri siti E che i primi hanno pagato Mentre gli altri no Dato che quelle foto Non gliel'avrebbero mostrate Se solo avessero pagato Quei 4,99$ Come Maria Sofia Ma a questo tizio non gli stava bene E per dimostrare che ho torto Tira fuori l'articolo 612 ter Del codice penale Che è quello che viene applicato Nei casi di revenge porn Che dice Chiunque dopo averli realizzati O sottratti Invia, consegna, cede Immagini o video A contenuto sessualmente esplicito Destinate a rimanere privati Senza il consenso delle persone rappresentate E punito con la reclusione E una multa La stessa pena si applica a chi Avendo ricevuto o acquisito le immagini Le invia senza il consenso Delle persone rappresentate Al fine di recare loro un documento Ecco, quello che ha fatto questo tizio Che purtroppo per lui È poco informato Anzi, non è proprio informato Ed è probabilmente la stessa cosa Che ha fatto anche Maria Sofia È stata leggere la parte Chi invia contenuti espliciti Senza consenso E concludere che sia Per forza revenge porn Ecco, purtroppo per loro Non è così E potrei spiegarvi Io, come del resto Qualsiasi altra persona Con il testo migliore Di quella di un bambino Di terza elementare Come la parte Destinate a rimanere privati Non si applica contenuti venduti A chiunque Su una piattaforma Comunni fans O come la parte Col fine di recare loro un documento Non si può dimostrare Su un tizio a caso Che condivide le sue foto Erano destinati ad uso privato Ergo, il video Da questo momento in poi Decade Sì Prego No, voglio vedere una cosa È giusto Sull'acquisto C'era scritto È giusto Perché lui dice Non è così Allora, lui Se io dico Allora, io mi faccio un discorso Dico La realtà è questa Non raffigura quella cosa là Perché è fatta così Cioè, lui spiega Come dovrebbe essere Non capendo che in realtà È esattamente così Il caso di Maria Sofia Sì Lui dice Erano È pubblico Perché sta là E uno si abbona Lo vede No, è uso privato Quindi tu Dicendo in questo video Se fosse ad uso privato Avrebbe ragione Stai ammettendo Che hai torto In quanto non hai capito Che è ad uso privato E quindi ha ragione Quello che ha fatto Twiner Quello che ha fatto Twiner È solo far vedere Il video iniziale Di Maria Sofia Dove dice quella frase Cioè, noi che cosa Abbiamo visto Cioè, un fan di Twiner Che apre sto video Che cosa vede Veramente della faccenda Quanto si informa Veramente della faccenda Per farsi un'opinione Testine Mamma mia Zero Zero O quello che ha deciso Twiner Cioè, lo zero Fuori da Twiner Lo 0,1% Io solo perché Per puro caso Vedi quella live E so questa informazione In più Che è stata fortunatamente Ribadita tante volte Per rendere chiara La situazione Da Maria Sofia E anche citando L'avvocato Che la segue So questa cosa E quindi So che tutto questo È fuffa Ma per fortuna Lo so Se non lo sapevo Boh Ma è proprio Per farvi capire Che Come fate A essere così Rabbiosi E sicuri Di sapere Di aver capito Una situazione Se Veramente Se vi fate un esame Di coscienza Non sapete un cazzo Da qualche anno È stato introdotto Anche in Italia Il reato di diffusione Illecita di immagini O video Sessualmente espliciti Ma io noto Come Ravenporn Chi utilizzò Li fans Rischia di incorrere Oppure di essere Vittima di questo reato Sembrerebbe di no Allora Scusatemi un attimo Adesso voi Come mi descrivete Questo passaggio Prendo Il sito Di un avvocato Che conosciamo tutti Angelo Greco Questa è la legge Stimato E prendo Questa porzione Assolutamente Generica Riferita Ovviamente Ai contenuti Che la stessa persona Decide di rendere Pubblici E comunque Non è tombale C'è scritto Sembrerebbe di no Ma non è finito Sì ma per dire Che già questa parte Ma perché Dovete prendere Per vero Quello che dice Un avvocato Anche Con la parola Sembrerebbe Ma allora Se uno Allora Ogni processo Dovrebbe finire In una maniera sola Cioè Chiunque studia Sa che deve andare così Ma voi sapete Come funzionano le cose Uno può Benissimo Pensare Che Che è così Poi magari Te arriva Il giudice Che analizza In maniera profonda Arriva il giudice Che il caso Lo analizza In maniera profonda E interpreta Tutto quanto E poi Da un risultato Non è che Se arriva l'avvocato E ti dice È così È così È una persona Che ha studiato Sì Ecco Manu Ecco Manu Vi sorpremerà Il fatto Che molto spesso Gli avvocati Non hanno ragione Cosa lo dimostra Quando perdono davanti Un tribunale Quanti avvocati Perdeno davanti Un tribunale Una cipra Su per cazzo la flame No studia Testa di cazzo Per ogni avvocato Che vince C'è uno che perde Ha ragione L'avvocato Destinati A rimanere Privati Cioè Quelli In questo caso Di Maria Sofia Ha ragione Quindi si sbugiarda Da solo Il paladino Della verità Si sbugiarda Da solo Quindi anche Il sito Di informazione Che dice Sembrerebbe di no Dovrebbe correggerlo con Sembrerebbe di sì Per CalliFans Ha anche la funzione Di avere delle chat private E bla 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 E appunto Sembrerebbe Quindi Tiene Tiene Appunto Sembrerebbe Perché infatti Ci sono dei casi Esatto Tipo questo Tipo questo Sì sì